Noi siamo contrari assolutamente, è una baracca mostruosa che ha richiesto una spesa colossale da parte del Comune di soldi pubblici. La linea stessa è stata semplicemente una sperimentazione che attualmente è utilizzata in 4-5 città nel mondo ed è una struttura che non ha mai funzionato bene. Gli incidenti erano praticamente continui nei primi 2-3 anni. Nei primi 3 anni in cui noi siamo riusciti a fare con il movimento no rotaie tram un censimento ci sono stati 160 feriti e 3 morti a causa della monorotaia che è un sistema di agganzamento di questo tram che poi non è un tram, è un trenino su ruota gomma a guida condizionata grazie a questa idiozia della monorotaia. Guardi c'è in progetto una tratta di tram, il cosiddetto Sir 2 da Rubano a Vigonza di nuovo con i binari che sventrerebbero a mio modo di dire parte della città in strade molto strette penso a Ponte di Brenta per cui passa anche una strada statale, a Chiesa Nuova e al centro a Corso Milano. Io penso che non si debbano più fare binari a Padova che creerebbero grandi problemi ma usare i più moderni tram bus elettrici a corsia vincolata che svolgerebbero la stessa cosa senza riuscire a creare grandi problemi alla circolazione, aumentare il traffico. Sarebbero peraltro anche molto meno costosi, costerebbero metà del progetto della terza linea di tram a binari. Grazie.